Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta intensificando su strade e autostrade della Toscana. Al momento troviamo rallentamenti e code per traffico verso Firenze, tra Prato Est e Firenze Ovest e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Possibili rallentamenti per traffico anche in A1 in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna e in Fipili tra la Strassigna e Firenze Scandici in direzione di Firenze. Siamo al traffico urbano di Firenze per i cantieri tramvia. Da domani 17 maggio è previsto l'ampliamento del cantiere di via Corridoni all'altezza di via Pisacane. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci per il traffico ferroviario, l'Euronite 295, Tarvisio Bosco Verde e Roma Termini sta viaggiando con 48 minuti di ritardo. Il transito ha chiusi al momento previsto alle 8.33, salvo recupero. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!